La post partita che porterò proprio in questa serata, adesso subito dopo questa live, l'Inter batte 1-0 l'Udinese con il gol di Stefano Sensi, in generale una prestazione solida da parte dell'Inter, chiaramente anche aiutata dall'espulsione di Rodrigo De Polla per la sciocchezza della manata a Candreva che ha spianato la strada alla fine all'Inter e ha limitato le tante, anche le poche possibilità offensive che avrebbe avuto l'Udinese, limitate proprio da quel gestaccio da parte di Rodrigo De Polla che ha sbarrato la strada e ha spianato invece la strada dell'Inter di Conte che vince e convince con una prestazione d'organico solida, un Inter che non ha come caratteristica un gioco particolarmente spumeggiante ma è cinica, un Inter solida nelle varie parti, solida difensivamente, concede poco ma è un Inter anche abbastanza letale in attacco, non crea tantissimo ma quel poco che crea lo fa fruttare al massimo e poi con la sensazione che ha dato l'Inter in tutta la partita proprio di un Inter dominante e di un Inter che ha sempre dato proprio quella sensazione anche di alla fine portarsela sempre a casa, di avere sempre il pallino della partita in mano e una partita appunto che si è fatta più semplice anche dell'esponsione di De Polla perché se lì insomma la squadra di Tudor stava tenendo bene il campo, abbiamo visto anche una squadra che è organizzata bene evidentemente dal proprio allenatore che cura in maniera anche maniacale la fase difensiva che stava funzionando bene, poi si stava facendo vedere anche quella bella densità di quei cinque uomini in mezzo al campo e stava funzionando tutto bene, poi proprio una sciocchezza del leader dell'Udinese De Polla ha compromesso un po' tutti i piani a Tudor e a quel punto si è più curata la fase difensiva di quella offensiva perché poi insomma l'Udinese si è fatta vedere molto molto sporadicamente in attacco e l'Inter ha tenuto alla fine il pallino del gioco per la maggior parte poi dei 90 minuti. Nella finale è entrato anche Alexis Sanchez che ha dato subito delle buone indicazioni, bloccato soltanto da un super musso che ha tenuto più volte a galla all'Udinese e ha sfiorato proprio subito il gol dell'ex al debutto, l'avrebbe bagnato subito con un gol dopo pochi secondi, ancora una prestazione poi super di Sensi ma in generale Godin, ecco Godin io penso il migliore in campo dell'Inter insieme a Sensi, non tanto per la prestazione, certo è arrivato anche l'assist per il gol ma per il carisma dal leader che ci mette in campo, l'ex capitano dell'Atletico Madrid che dimostra di essere proprio un grande punto di riferimento per tutti i compagni, è veramente un leader generale soprattutto a livello carismatico per questa Inter, è un giocatore imprescindibile che ha già preso in mano le chiavi della difesa in generale di questa Inter sia a livello tecnico sia a livello di carisma, è un giocatore che a livello europeo all'Inter tra tante debuttanti non può che far bene, bene anche Politano, la mossa di Conte ma a mio avviso benissimo anche Lautaro Martinez che si è dimostrato davvero una buonissima prima punta in tanti dicono che può essere una seconda punta, un apporto a Lukaku ma in realtà io credo che Lautaro Martinez sia una vera prima punta, lo si vede dai movimenti che fa questo attaccante anche bello da vedere, meno fisico di un Lukaku che stasera ha fatto un po' più di fatica ma ci può anche stare visto che comunque ancora la condizione è chiaro che non sia ottimale e poi Lukaku che comunque ha dato il suo apporto magari con un gioco sporco con tante spunte. Comunque l'Inter a Gagliarda di Antonio Conte ottiene un'altra vittoria 3 su 3, è chiaro che gli avversari non fossero chissà cosa ma comunque bisognava sempre vincere per 48 ore, l'Inter sarà capolista solitaria di questo campionato di Serie A aspettando Torino-Lecce di lunedì sera. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una valanga di un mi piace al video, condividetelo i studi e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto subito uscirà anche il post partita di Barcellona-Valencia, vi invito a guardare entrambe le post partite sia di questo di Inter Udinese e poi chiaramente quello di Barcellona-Valencia e a questo punto vi rivediamo al prossimo video.